oh no no brother follia follia è beviato fra follia no io non ci sto questo no questo è assurdo assurdo all'h disgusting 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 è pazzo è pazzo ma questo ti dico questo lo trusti anche se è beviato fra cazzo questo lo trusti anche da beviato questo è un matto bro questo è un matto bro questo lo trusti anche da beviato questo è il pokemon lento che ti fa la god run è matto completamente è completamente out of himself sembra castoro quando va a puttane sto dark rai un matto completo un matto completo è male male ieri la roma edo però può succedere non è che si sempre nella via cioè può anche succedere di prendersi una loss da una squadra più forte non è che ti devi incazzare col mondo e guarda come sono agitati in chat mamma mia quando parli di calcio parli di calcio e butti un po' il flame si scaldano tutte le acque diventano bollenti cazzo bella torta tutto bene socio come stai come va non vi incazzate ragazzi roma milan tre pappine a uno se non erro tre teghe si è presa la roma pilotata dice non per nulla tifoso romanista tre teghe si sono presi è che non mi ricordo se ho preso l'item nel percorso in alto effettivamente è un matto sto dark rai cazzo non volevo andare nella che due palle bro faccio un passo mi cazzo assurdo faccio diminuisco la speed ora perché altrimenti mi cammina troppo too much prendi rappel scappo non li puoi comprare qua mi pare c'è una cazzo originale puoi subito qua non lo so non pende ah no puoi già perché il suo air gold non te lo faceva prendere prima di fare la prima palla eh grazie per questi beats potrei anche usare il rapper ad andare a prendere lo strumento nel nel coso qui perché sono un matto e grazie per questo tanja molto interessante remides comunque là c'è sempre la cura cazzo ma è pazzesca sta roba eeeh sacred sword non mi ha tolto un cazzo con la super f si però tutti commosse assurde oh perché ho fatto questo dovevo fare sacred sword tanto lo killavo comunque questo è il tipico pokemon lento che però all'eccezione il god lento bro assurdo non si è mai visto il god lento eh però lui lo è è un matto sto cazzo di dark ray peccato che abbia dark pulse ok non ci credo che roberi guarda cosa sto un attimo focussato per cortesia ragazzi porco dio aftermath guarda il tanja which one eh ragazzi eh non è che mi posso girare in funzione del tanja eh dio cane dio bueo cioè ah quello di lia che disegna ma che stupido guarda che questo pulla la lega sei matto questo è un pokemon da lega fra è fortissimo sto robo sono sono matto sono focussato perché sono un matto quanto cazzo ve la tangiate signori godo io non so se curarmi eh no non penso di curarmi chiunque dice che fa merda voglio dire che fa una sub gift se passa Brock altrimenti la faccio io se non passa Brock dio boia petra petra scusa petra 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 ah castoro se le dai castoro lascia rifare i ragazzi lascia rifare i ragazzi castoro non te la prendere in questa maniera così a male volevo solo flexare un milione e cinquecentomila punti spesi allora vi ho detto oddio è matto sto dark ride bro dai merda che robberi fra imbarassing robberi I'm looking at here aia ma vai a cagare dio boia bravo la uso una curetta qua secondo me eh la uso una curetta qua porco dio entra o non entra becca da parrato entra o non entra cazzo suca il god bro anche da parrato te lo fai tanca talmente tanto bro che è un matto sto pokemon zio pera tanca talmente tanto che è un matto dove sono quelli che diceva che è impossibile che che passava che era un bidone che dove siete ora bro dove siete ora dove siete ora dove siete ora entra dove cazzo siete ora dio boia vediamo l'MT di Petra va chiaramente bannata non sia mai che dà una mossa mezza decente sia per toncio sia mai che dà una mt anche solo mezzo decente cioè ma assurdo la follia siamo alla follia siamo puttana se tanca bro tanca che è una meraviglia con questo don't you stop poli mi ha già mandato alcuni codici eh comunque quindi potrei già darne uno orora di codice bro potrei fare potrei già darne un'ora però no lo metto nel pomeriggio su instagram a caso troppo immaturi stamattina troppo immaturi stamani no mi sta bene bro troppo immaturi stamattina troppo immaturi eh con i copypasta speravo ce ne fossero di nuovi ma purtroppo Hunterwals non si è rinnovato quindi tocca facciamo come una ma con calma bro who knows molto bene questo bello cazzo sto dark ray puttana che stecca che tira fra è matto questo ma se imparassimo una bella stab fisica non sarebbe male che dici un cazzo di night slash o devo mettere battle style set dopo che stecca che tira fra ora Midas alla fine è un bravo ragazzo ma comunque qual è la roba della il tango dell'IA che disegna ancora non l'ho vista la clip so ci do un occhio se me l'hai mandata I'll take you to the candy shop bro I'll take castoro to the candy shop faccio prendere tante di quelle caramelle che non si rialza zio per siamo dei matti siamo la robbery bro ok molto bene mi hanno dato la clip su telegram adesso vado a vedere adesso I'll take a look now bro don't be that porco dio fa stra tranquillo ma come è possibile ma che cazzo we can't go la rivale la stanniamo la rivale andiamo a fare il dungeon molto bene sto mon comunque molto bello bro molto molto bene sto mon mi garba me mi garba sto pokemon ragazzi anche se è lento troppo sgravo allora will be stronger and free dai castoro non ti fare incazzare ma è un po' immaturo forse però qualcuno può fare il copypasta in varie lingue del castoro tipo è arrabbiato non scopa è furioso mi viene l'Australia no dai sta scherzando sta scherzando sta scherzando dai sta scherzando ora non te la prendi sta scherzando era furioso fatelo fatelo merda che due coglioni sto cazzo di aftermath dio boia ma com'è possibile che gli levo così poco oh il nostalgico è un matto è un matto è nostalgico è un pokemon d'erba perché ho zero di special attack ragazzi con 14 quando mai faccio è un castoro dai non te la prendere con i colleghi castoro non mi sembra maturo no non mi sembra maturo prendersela con i colleghi in questa maniera così anche repentina se vuoi no come non è un tuo collega castoro ti stai elevando a un piano più alto un po' presuntuoso da parte tua se posso cioè non faccio l'ultimo trainer non faccio l'ultimo trainer dato siamo già al 31 va più che bene no 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 castoro molisano no castoro molisano no no castoro molisano no no castoro molisano no castoro molisano no non mi sembra non mi sembra beh rimpe speriamo dai tra due ore arrivo alla lega due ore ma questo è stato simpatico cazzo questo va detto eh questo è stato bello questo è stato il nostalgico fra sono sto beviato frate cioè follia questa che cazzo ma molti sono sono veramente fissati con castoro perché comunque è una figura di personaggio importante una figura importante nel mio canale come in quello del fazzone e e così via come in quello di Yoshi il castoro è una figura che tutti conoscono quindi questo gli va da gli va resa nota come cosa non è bullcap in realtà è una roba che non sia bullcap però però Musica